ok sì tanto che marco si prepara e noi abbiamo fatto diverse campagne per alcuni progetti che abbiamo realizzato è difficile gestire la lavagna e marco vi presenterà perché in realtà la mente del crowdfunding è lui e io magari lo assisto e scrivo sulla lavagna va bene perfetto grazie di cuore per averci permesso di essere qui noi non siamo degli speaker o qualcosa del genere nella vita facciamo gli attori però quindi qualche analogia c'è e quello che è un po unito in questi anni per numerosi progetti è il favoloso modo del crowdfunding quattro campagne che hanno generato ad oggi circa 115 mila euro e quindi quello di cui vi parlo oggi è come fare a fare in modo che la community alla quale ognuno di noi lavora instagram facebook eccetera eccetera possa sostanzialmente fare una cosa soltanto la più importante di tutti cioè generare soldi c'è un bellissimo libro l'autore si chiama troisi e dai sogni ai soldi questo è sostanzialmente il messaggio forse un po banale del crowdfunding cioè fare in modo che la nostra community di riferimento possa supportarci economicamente nella realizzazione di un progetto le campagne ad oggi sono state quattro due hanno generato due film uno per la 75esima mostra il cinema di venezia un altro per rai e adesso due serie tv che sono state realizzate per mediaset anche queste realizzate incredibilmente grazie alla forza di migliaia di persone che hanno deciso di donare dei soldi quindi ecco questo è il discorso che faremo oggi io cercherò di essere super concreto perché poi alla fine quando si parla di denaro di ricompense di bakers di perks e tutti questi nomi che fanno molto USA ma sostanzialmente significano cose estremamente banali e concrete forse la cosa più utile è cercare di essere iper concreti e quindi la mia speranza è che qualcuno di voi magari abbia tentato di fare una campagna o si è uscito da una bella campagna di successo è molto dura abbiamo commesso tutti gli errori del mondo e siamo qui questa mattina per raccontarvi che cosa ha funzionato e che cosa invece non ha funzionato affatto e quindi grazie di cuore per averci permesso di essere qua ok crowdfunding crowdfunding mara mi fa un po da valletta ma così potete leggere crowdfunding il termine deriva crowd folla e funding finanziare quindi sostanzialmente si spiega da solo io parto da una prima cosa cioè i motivi per cui la gente dice wow il crowdfunding voglio provarci anch'io cioè perché lo amerete funziona funziona assolutamente funziona kickstarter indigo i grandi grandi piattaforme americane riescono a muovere milioni di dollari in italia la cifra più alta sostanzialmente solitamente di una piattaforma si assesta sui 20 25 30 35 mila euro ma in ogni caso sono cifre importanti il crowdfunding funziona davvero è totalmente disintermediato cioè non ci sono i famosi gatekeepers coloro che dicono tu sì tu no o i bandi no i finanziamenti qualunque altra cosa il crowdfunding è totalmente democratico parte dal basso se la gente ci crede vi darà dei soldi finanzierà l'altra cosa dipende da te il crowdfunding è estremamente faticoso a volte ma la verità è che non c'è qualcun altro a cui chiedere il permesso parlerò poi di una piattaforma che secondo me la più importante la più affidabile di tutti la più conosciuta si chiama pdb che sta per produzioni dal basso e che ci ha accompagnato ad oggi ormai sono sei anni che facciamo crowdfunding e sono sempre stati il nostro punto di riferimento e l'altra cosa sono più veloce delle tue è la vostra community ho questo termine che significa tutto la community la community acquistare followers mi piace quando probabilmente il modo più veloce per acquistare follower su instagram o facebook è magari pagarli no ci sono servizi dovunque in cui voi pagate e organicamente i follower crescono ho tanti amici che sono in questa battaglia dei social in cui la verità è davvero serve a qualcosa tutto questo c'è un bellissimo libro ve lo suggerisco si chiama deep work che prospetta la fine della dinamica dei social o meglio un ritorno a delle origini dove ci sia davvero una sorta di reale comunicazione e non sostanzialmente questa guerra di like che è così facile alcune volte facilissimo comprare ok andiamo avanti no trucchi o perché lo odierete non ci sono trucchi il crowd fan non ha trucchi non c'è nessun sito che convinca gli altri a mettere in mano a paypal alla propria carta di credito ea darvi dei soldi il crowdfunding è veramente dammi i tuoi soldi e l'altro dice col cavolo che te li do dimmi perché dovrei ecco e quindi no trucchi non esistono l'altra cosa importante perché lo odierete impegno e fatica e personalmente il crowdfunding è per noi una delle cose più entusiasmanti ma più faticose impegnative che che abbiamo affrontato è stato quasi più difficile mandare avanti la campagna che realizzare magari la serie ma è impegnativo semplicemente perché funziona ed è soprattutto questa secondo me la cosa importante che sono abbiamo scritto è misurabile nella maniera più totale del mondo altro che google insta analytics o cosa del genere le crowdfunding hai un counter un contatore o cresce o rimane fermo ahimè le statistiche a livello mondiale dicono che tantissime campagne purtroppo restano allo zero è difficile spingere la gente a donare ma è estremamente coinvolgente entusiasmante quando funziona e poi credere nel progetto è successo verso sfallimento e questa è un'altra cosa molto interessante del crowdfunding crowdfunding vi mette di fronte a tutti dicendo voglio scrivere un libro aiutami a pubblicarlo voglio fare un documentario voglio realizzare un film voglio fare un corso per milioni di persone quando inizi una campagna hai un target ovviamente la cifra che vuoi raggiungere è anche un tempo entro la quale la raggiungerai il che significa semplicemente che se qui in quei 90 giorni 120 30 quello che non raggiungerà il target la gente dirà e hai fallito la tua idea non vale ergo in questo sillogismo forse neppure tu vali così tanto e questo l'ho visto un sacco di volte ed è successo a noi tantissime volte perdere in una campagna crowdfunding significa sostanzialmente metterci la faccia dire ci credo davvero o la faccia funzionare o semplicemente il giorno scade zero days zero giorni rimasti e il target è a un decimo di quello che tentavate di raggiungere questo secondo me è una bella sfida del crowdfunding porta a prendervi incredibilmente sul serio e investire in quello che fate bene dopo questa presentazione la speranza di stimolare un po il vostro interesse come fare a far funzionare una campagna di crowdfunding avete magari in mente di fare una campagna avete un sogno un obiettivo un progetto la verità è potete avere la community più vasta del mondo ma se non ci sono i soldi non andrete da nessuna parte quali sono gli elementi base di una buona campagna di crowdfunding gli elementi ontologici diciamo così costitutivi sono l'obiettivo che cosa volete che cosa volete realizzare con quel denaro che cosa vi volete acquistare una nuova sede aziendale volete fare appunto un libro volete fare un audio book volete pubblicare qualcosa su amazon prime o o di bolo quello che è servono dei soldi qual è l'obiettivo esattamente super chiaro e poi qui torna una parola che ormai è una sorta di mantra no tutte le volte si parla di marketing web eccetera cioè la community che cos'è esattamente la community mi fa sempre pensare l'algoritmo di facebook che parla di un raggiungimento rich organico del 3 per cento voi avete 100 follower ma il vostro posto lo vedranno solo in tre voi che lo vedano gli altri 97 facebook è molto chiaro se mai avete avuto una business page ovviamente ce l'avete tutti è forse ti conviene pagare e allora gli altri 97 lo vedranno la community come fare a trovare questi soldi se non esiste una community di riferimento il crowdfunding mi spinge davvero e questa secondo me la cosa più bella a tornare virtualmente con i piedi per terra e dire adesso chi è che mi dà 10 euro via paypal e la verità è che non te li dà nessuno o meglio te li danno te li danno le persone che credono davvero in te ecco la cosa bella del crowdfunding che ci ha sempre aiutato e che aiuta ovviamente chiunque no i progettisti e pensare in grande e il crowdfunding dato che magari i soldi che cerchi sono tanti ti spinge a cercare alleanze a capire chi è compatibile con me e è bello perché il denaro diventa una cosa positiva per creare un network reale tra realtà ditte associazioni terzo settore che dicono ok ci sto è un bel progetto che cosa vuoi fare un libro su per aiutare qualcuno ci sto è importante anche per la mia community ed è impressionante quanto il crowdfunding possa permettervi di realizzare un progetto e allo stesso tempo allargare enormemente la vostra community creando alleanze in nome dei soldi e questo secondo me molto bello ok target ogni campagna i crowdfunding mi chiede di definire un obiettivo e non potrete cambiarlo da regolamento mai più ossia quanti soldi volete e non c'è limite su produzione dal basso non c'è limite su indiegogo kickstarter apple alle tante piattaforme entro quella data dovete raggiungere quei soldi o ce la fate o non ce la fate la scadenza quanti giorni resterà online la campagna potete andare da un giorno fino a un massimo di 120 se non sbaglio su produzioni dal basso altre campagne altre piattaforme impongono limiti minori 30 giorni 60 giorni 90 giorni la campagna deve terminare entro quei mesi entro quei giorni i soldi o li raggiungerete o non li raggiungerete e una piccola parentesi che faccio sul target sono le due principali tipologie di campagna una si chiama all or nothing no tutto niente e l'altra è take it all prendi tutto quindi dipende da quanto rischio volete ok take it all prenderò tutto anche se mi arriva cercavo 100.000 euro me ne arrivano mille li prendo tutti quello che avete dato me lo porto a casa io oppure c'è all or nothing tutto niente questa è un'altra tipologia di campagna che vi spinge a amare il rischio dire a tutti aiutami perché se entro quel giorno non avremo raggiunto i 100.000 euro li perderemo tutti quanti e questa ha dei vantaggi e degli svantaggi il vantaggio è che avete l'urgenza lo svantaggio è che rischiate realmente di perdere ma entrambe le campagne sono possibili la piattaforma e le piattaforme sono tante le grandi piattaforme internazionali le conoscete indiegogo e kickstarter dal quale sono nati film dal quale sono nati orologi dal quale sono nati prodotti macchine elettriche qualsiasi cosa e kickstarter muove alcune volte campagna da 10 milioni di dollari indiegogo il grande partner di kickstarter ma virtualmente con regole differenti e in italia abbiamo produzioni dal basso dal 2014 se non sbaglio e ormai è diventato sinonimo di crowdfunding e poi le ricompense quelle che nel termine si chiamano perks perks le ricompense per stimolare i bakers non so perché tutte le cose che hanno a che fare con internet devono avere sempre dei nomi un po così anglosassoni i vostri sostenitori devono riceveranno delle ricompense a fronte delle quali daranno dei soldi ecco questa è una bella cosa ne parleremo tra poco di quali sono le ricompense che funzionano funziona davvero la penna il quadernetto la spilletta o probabilmente tornerete a casa e quelle cose le metterete da parte in un cassetto le tenerete mai più fuori e se il tempo ci basta vi racconteremo di una bellissima concezione delle ricompense viene da uno studioso di indiegogo che li chiama 3d le ricompense tridimensionali molto bello ci ha cambiato la vita e che cosa abbiamo adesso io vado avanti così a spada tratta io vi do informazioni poi se servono bene come funziona una campagna volete fare un libro immaginate avete un sacco di esperienze di sarebbe bello fare un libro ma un editore non si trova o in ogni caso l'editore come spesso succede dice le prime 800 copie te le compri tu e quindi vi chiede dei soldi e questi soldi non ci sono o magari potrebbero essere i vostri ma non volete metterli voi i soldi avete lavorato tanto la vostra community fate un posto ogni giorno usate buffer hood suite quello che volete avete tantissima gente che vi segue perché non provare a chiedere dammi una mano fidati di me dammi il tuo denaro ok come si presenta una campagna numero uno la descrizione la verità nuda e crude che come dicono le statistiche online un testo scritto della lunghezza di più tre righe viene letto da meno del 33 per cento di chi va sul sito quindi è importante scrivere ma la verità è che lo sapete anche voi probabilmente non tutti arriveranno in fondo neanche al primo paragrafo la seconda cosa è la cosa più importante di tutte cioè il video se andate online cercate le campagne di maggiore successo vedete che sono sempre accompagnate da un video non avete idea di quanta gente ci scrive per chiederci consigli su telecamere o altro le campagne di maggiore successo sono state registrate con un cellulare quindi se avete una buona idea dovete presentarla in un video la durata massima secondo le statistiche tre minuti e in questo video vi mettete davanti al cellulare dite sono pinko pallino e ho questo sogno o questo obiettivo dammi una mano punto e basta metterci la faccia è diciamo così la richiesta numero uno per far funzionare un video deve essere semplice deve essere dovete essere voi che chiedete sostanzialmente quello che volete mettici la faccia e ct a no call to action giungere alla fine del video dicendo ho bisogno di questa cifra dammi una mano tante volte manca una chiara call to action e il video alla fine non significa niente quindi questo è l'invito tre minuti mettici la faccia di che cosa vuoi e funzionerà ricompense ecco il crowdfunding più celebre è quello che viene chiamato reward base cioè basato sulle ricompense la gente vi dà 10 euro in cambio a questo questo e quest'altro se ne dà 20 a questo questo e quest'altro e anche un'altra cosa se ne dà 50 eccetera e adesso io nella speranza di esservi utile voglio darvi proprio dei super consigli di quello che effettivamente secondo le statistiche mondiali funziona nel caso in cui voi vogliate fare una campagna le ricompense fate così sceglietene tre grandi ricompense solitamente funziona molto bene 10 20 30 euro 30 50 80 cominciano a essere soldi 10 20 30 la regola dice non più di tre ricompense vedrete alcune volte campagne che hanno 15 ricompense quello che funziona molto è smart big super quello funziona sempre alla grande quando invece avete tante tante ricompense chi dona poco si sente un po uno sfigato perché non ha magari la voglia o le possibilità di darvi 800 euro ok e soprattutto come devono essere bene queste che cosa sono queste ricompense alcune volte pensiamo alla maglietta la spilletta eccetera eccetera il primo invito che vi faccio è fate bene i conti non avete di quante campagne esistono che saltano questo passaggio ok dammi 15 euro e ti mando la maglietta fantastico fantastico perfetto una bella maglietta ora la domanda è anche se fatta in migliaia di copie la maglietta costerà 3 euro e 55 euro avete la maglietta dovete a spedirla in valle d'aosta o a roma o a napoli e vi scontrate col fatto che i post italiani ha solo una soluzione si chiama pacco celere a 7 euro qualcosa se non sbaglio quindi avete la maglietta che costa 3 euro avete il pacco che costa 7 gli hanno dato 15 euro ma ve ne rimangono solo 5 fate un salto a vedere le campagne che promettono un sacco di ricompense lo fanno davvero è perché si prendono un impegno ma alla fine c'è un problema che avete speso tutti i soldi tra maglietta e invio le spese di spedizione sono sempre quella l'ultima cosa che si considera quando invece giungono come una spada di damor che distruggendo il vostro budget quello che avete raccolto se ne va in gran parte in servizi postali piccolo detour fiscale qui veramente lo tocco solo così da lontano perché si potrebbe parlare delle ore ora cosa succede voi cercate soldi per un libro e la vostra ricompensa è il libro e magari a fronte di 15 euro qualcuno potrebbe dire si tratta di vendita di beni e servizi ancora non in essere questo è quello che ci ha detto un commercialista e quindi la verità è che dovrebbe essere accompagnato da uno scontrino da una fattura da un sacco di altre cose qui torniamo quindi a quello che dice la legge che dice che le ricompense dovrebbero essere semplicemente simboliche cioè non dovrebbero essere diciamo direttamente proporzionali ai soldi che vi danno voi date vi danno 50 euro voi date qualcosa che costa esattamente 50 euro numero uno non siete molto saggi e perché ovviamente sono soldi persi e numero due qualcuno potrebbe dire non è esattamente una ricompensa simbolica così molte volte ci diciamo ma nessuno mi darà niente per una spilletta e quindi giunge secondo me la cosa più bella di tutte la cosa che rende davvero il crowdfunding veramente divertente le ricompense 3d cioè la gente chiede di fare delle esperienze con voi nessuno vuole la spilla nessuno vuole la maglietta o l'agenda ne abbiamo troppe poi non ci piaccio la maglietta non va bene nella borsetta non la porterò mai ma se qualcuno mi dicesse ok io vi aiuto a fare lo spettacolo teatrale fantastico quanti soldi vi devo dare 20 euro facciamo così però quando viene a vedere lo spettacolo guadagni un posto sul palcoscenico dietro le quinte e guardi gli attori mentre si preparano in camerino la gente dice ok ci sto oppure ricevi una cartolina firmata da tutte le persone sul set con un video che li riprende mentre stanno firmando la gente impazzisce per queste cose ed è veramente divertente perché vi spinge a cercare ricompense creative e soprattutto che non vi costano niente farai prenderà un caffè con il regista verrai a cena con noi e ti offriremo una birra qualsiasi cosa possa portare le persone a diventare parte della esperienza ecco la parola d'oro è esperienza e abbiamo realizzato questa serie sull'ambiente una delle ricompense era un memorabilia che si trovava nel nostro zaino o una cartolina con timbri da tutti i rifugi di alta montagna che vedevamo o la possibilità di fare una sorta di skype call mentre eravamo da qualche parte sperduti in mezzo al tirreno le persone vanno matte per queste cose perché sono irripetibili e sono uniche ecco quando la vostra ricompensa non vi costa nulla avete tanti vantaggi potete chiedere molti meno soldi perché avete molte meno spese e soprattutto diventa estremamente divertente e la community diventa una community reale di gente davvero che vi conosce personalmente dice è stata una figata è stata troppo bella quando è che farete la prossima quando è che farete la prossima e quindi in pratica sviluppate una sorta di clan che è pronto a sostenervi non solo sui social non solo diventa una vostra promozione vivente ma soprattutto che è pronto a sostenervi con dei soldi perché alla fine di tutto marketing business eccetera alla fine tutto quanto no si riporta solo una parola cioè dobbiamo cercare sostanzialmente di creare del valore dando del valore ok ora sono arrivato davvero alla fine perdonate devo fare un audiolibro e la gestione ok voi avete lanciato la vostra campagna siete andati su produzione dal basso è facilissime basta il vostro account facebook nome e cognome e un conto corrente su paypal in quale riceverete i soldi e poi siete pronti c'è una bella pagina tutta bianca molto semplice molto facile molto user friendly e e voi mettete una descrizione con un cellulare cercate di fare un bel video magari vi viene anche bene no ci sono tanti programmi anche gratuiti avete un mac potete usare i movie final cut quello che volete e alla fine mettete questo video lo mettete su vimeo su youtube facebook dove volete e parte la campagna e la domanda è mi daranno dei soldi ora segreto numero uno trasformatevi in un magazine online trasformatevi in una rivista è vero e questo è molto bello e anche molto duro ogni giorno uscite con un contenuto e so che questo non sarà un problema il lunedì uscite con una cosa il martedì con un'altra e poi con una foto e poi magari con una cosa specifica specifica per facebook ma ecco qui entra un contenuto una parola secondo me molto molto importante viene da un libro si chiama be famous diventa famoso si famoso che parla della potenza dei social per farci diventare famosi nel nostro settore e questo signore dovrà scritto pagine 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 dice una cosa importante ricordatevi che ciò che riporta effettive visualizzazioni nonostante gli algoritmi dei social si chiama reach content cioè contenuto ricco che cosa significa un contenuto che vi richiede un sacco di lavoro per essere creato la foto su instagram col filtrino anni 60 la so fare io la sono fare tutti e non ci costa niente la gente lo sa o prendere una citazione andare su che ne so spark di adobe e creare una bella immagine super grafica e la gente dice non l'hai fatta tu l'ha fatto un programma non costa niente a me non costa niente a voi ma invece creare una vera fotogallery creare un vero video anche sia amatoriale di quello che state facendo creare un vero report di quello che avete scoperto quello costa un sacco di tempo proprio ore di lavoro ma quando lo pubblicate succede una cosa impressionante nel mondo del favoloso mondo crowdfunding il contatore comincia ad aumentare la gente dona 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 dove un po la gente si dimentica e smette di donare e allora voi dovete creare un altro rich content e un altro rich content e questi rich content sono semplicemente un grande sbattimento per creare qualcosa che ha valore nella speranza che la gente possa donare io vado avanti sono siamo praticamente alla fine tutto finisce qui fine grande ed è newsletter ora sempre su strategie super concrete che cos'è che funziona davvero nel favoloso modo del crowdfunding il più alto tasso di conversione come si suol dire cioè che qualcuno fa click per poi mettere questi favolosi numeri di carta di credito è la newsletter la newsletter funziona alla grande la cosa bella di produzione al basso che vi da anche degli analytics per farvi capire da dove arriva chi sta donando arriva dai social arriva dal web da una ricerca così casuale su google la maggior parte delle donazioni arriva da chi viene contattato da voi via email tante persone dicono ok ho duemila indirizzi ho il mio account su gmail vai invia con un ccn di duemila riceventi della vostra email e due minuti più tardi google vi banna a vita il problema qual è immaginate se fate questo dal vostro server dal vostro nome dominio a pincopallino.com voi mandate duemila mail da pincopallino.com entrate velocemente in tutte le blacklist del mondo e ho visto produzioni cinematografiche dover abbandonare il proprio nome a dominio perché era impossibile uscire dalle blacklist non riuscivano neanche più a contattarsi tra di loro perché il loro indirizzo era considerato spam la newsletter è tutto un altro mondo ma crearla e farla bene è complesso e ci sono tanti servizi no mailchimp e tanti altri ricordatevi che la newsletter la dovete mettere nel vostro budget perché una buona newsletter appena superi duemila indirizzi lo vedete il pricing di mailchimp comincia a costare un sacco di soldi perché in effetti per giungere davvero nella casale di posta elettronica della gente che vi segue si paga è incredibile quanto si paga ma alla fine è dal di lì che arrivano le donazioni pagate i social dio santo siamo invitati a tutti i festival sul marketing del mondo ma alla fine ci scontriamo sempre su questo cioè il fatto che noi pensiamo che i social network siano davvero social network dei network sociali dove siamo tutti allo stesso punto il problema non è così che social network facebook e altri sono delle company cioè delle industrie il cui principale fine è fare del business loro vogliono i vostri soldi e noi vogliamo i soldi di qualcun altro quindi alla fine dei conti il modo davvero migliore per essere virali e giungere al versione e alla fine pagarli questi social per giungere a chi dovete raggiungere ecco e superare quel 3 5 per cento mettete questo ovviamente nel vostro budget cercherò ogni settimana di investire 20 euro su facebook per giungere a un po più di quelle 100 persone e il messaggio scritto e il tuo contenuto sta avendo fantastiche visualizzazioni perché non puoi non giungi al 95 per cento dammi dei soldi ok la curva u e siamo davvero alla fine benvenuti nella bonaccia del crowdfunding nei primi giorni un sacco di gente dona i vostri amici la vostra ragazza parenti nel mondo del crowdfunding si chiamano love money i soldi dell'amore cioè di chi vi vuole bene e non vi vuole lasciare da solo poi inizia la pancia della curva a o cioè passano settimane e non dona nessuno c'è gente mi dice vai sono con te fantastico che bello e tu vorresti rispondere al commento dicendo perché non mi dai dei soldi ma la gente non vi da niente e questo chiunque abbia ecco qui è dove mollano tutti tutti mollano qui molti mollano il problema del crowdfunding che che donano all'inizio no avete presente la curva no dei di chi arriva per quando lanciano un nuovo prodotto adesso mi sfugge i termini ma ci sono i first adopters quelli che lo prendo subito e che invece arriva per ultimo la maggior parte dei vostri donatori arriverà alla fine nell'ultima settimana succede il delirio vogliono donare tutti tutti vogliono dare i vostri i loro soldi ma lo faranno solo se voi continuate con questa roba qui dicendo e la gente ho visto gente dicendo cavolo vi siete impegnati così tanto dai vabbè non mi interessa il regalo ma te li do questi soldi quindi la curva u è uno dei principali elementi ringraziate anche questo è veramente una cosa da niente ma succede sempre una delle migliori cose per capire cosa funziona è provate a sostenere una campagna che vi interessa ce ne sono tante su produzione dal basso e tante volte voi magari avete donato 30 euro ok lo avete fatto e non giunge neppure una mail di ringraziamento giunge quella di produzione ma sapete che è un server che ve la mandi in automatico il nostro comandamento anche nel anche cercando persone che ci aiutassero a fare questo è appena uno dona 40 minuti più tardi una mail scritta da noi giunge dicendo grazie il resto della mela un copio incolla ma le prime righe sono reali personali quando la gente riceve questo il più delle volte si dimentica dei regali che deve ricevere anche solo essere ringraziati personalmente la gente impazzisce per questo dice ma che grazie a te è un piacere e diventa promotore verso altri dicendo c'è una bella campagna devi dare una mano a questi ragazzi l'ultima cosa celebrate il successo siate di parola anche questo è un po triste ma alcune volte succede avete promesso dei regali che non arrivano non arriveranno arrivano dopo mesi ok alla fine quella maglietta la fate arrivare ma quando la persona la riceve dopo un anno dalla fine della campagna è è molto chiaro quello che scrive nella sua testa cioè stai tranquillo non ti sosterrò mai più è impressionante appena ci sono i soldi nel mezzo il rapporto diventa molto più no terra terra questo libro deep work vi invito davvero a leggerlo parla di onanismo dei social cioè io metto un like a te tu la metti a me like 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 eccetera eccetera la verità è che sono lui li paragonai blink degli occhi non è molto più di questo il condividi e vabbè dai dai cosa ma non è una reale interazione al giorno d'oggi no ho mille follower ma la verità è che la stessa persona segue 2000 account quindi questo bel libro che vi invito si chiama proprio deep work molto molto interessante perché è un po diciamo così fatalista dice che a un certo punto questo questa grande piramide che sostanzialmente ha delle basi un po di sabbia a un certo punto crollerà questo meccanismo di a seconda di quanta gente mi segue o una determinata importanza quando invece ci sono in mezzo dei soldi improvvisamente come essere realmente qui e uno ti ferma per stare dicendo ti ho dato 10 euro dov'è la maglietta ok e lì il rapporto diventa più reale siate di parola se l'avete promessa mandatela e mandatela subito il prima possibile e celebrate il successo quando arrivano dei soldi dite a tutti siamo arrivati a 1000 euro siamo arrivati a 2000 euro a 3000 a 4000 e la gente dice wow sta funzionando e decide allora di darvi una mano sentite io non ho idea se qualcosa vi è servito io spero di aver condiviso con voi tutte queste informazioni nate sostanzialmente da esperienza e se c'è qualche domanda noi siamo qui grazie mara esatto è finito anche il tempo è finitissimo e grazie di cuore e ci trovate online ok grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille